Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Apriamo questa sera con la politica e lo facciamo con il fermento, con la fibrillazione che c'è in Consiglio regionale, soprattutto all'interno del gruppo di Abruzzo Civico che si è spaccato. Nel prossimo servizio, nel primo servizio, cerchiamo di capire il perché di questa spaccatura. Clamoroso all'emiciclo, i consiglieri regionali di Abruzzo Civico, Mario Olivieri e Andrea Gerosolimo, escono da Abruzzo Civico, assieme al coordinatore regionale Giulio Borrelli, perché oramai argomentano la lista civica nata a sostegno del presidente Luciano D'Alfonso è monopolizzata nel suo direttivo dalla componente di scelta civica, a cominciare dal presidente, l'onorevole Giulio Sottanelli. Un corpo estraneo, conferma i nostri microfoni Olivieri e inizia per noi una fase 2 e conferma Olivieri l'imminente ingresso nel gruppo consigliare, che cambierà nome, di o almeno un altro consigliere. Olivieri tiene la bocca cucita ma dovrebbe trattarsi di Maurizio Di Nicola, centro democratico, presidente della prima commissione bilancio. Adesso Abruzzo Civico per quanto ci riguarda, per il gruppo regionale, quindi parlo di Olivieri Gerosolimo, si sono dichiarati attraverso una conferenza stampa fuori da Abruzzo Civico per appunto dei dissapori con la direzione. Nascerà quindi una nuova formazione? Abbiamo una nuova formazione, avremo una nuova realtà in regione Abruzzo che può darsi che si rafforzi, abbiamo già delle trattative in corso. Il consigliere Di Nicola? Alcuni consiglieri regionali. Di più di uno? Può darsi che ne fossero anche più di una, c'è questa possibilità e adesso è ancora presto parlarne perché siamo in fase appunto evolutiva. Quindi probabilmente, ma noi siamo già fuori, cioè Olivieri Gerosolimo sono già fuori, Abruzzo Civico è superato, stiamo lavorando, abbiamo avviato un percorso che va oltre Abruzzo Civico, Abruzzo Civico fase 2 o qualcosa del genere. Oggi in commissione regionale le raccomandazioni della comunità europea per il contrasto alla disoccupazione di lungo corso e una sperimentazione in 5 comuni abruzzesi del reddito minimo garantito. L'Abruzzo per essere regione d'Europa deve fare di più per i disoccupati di lungo corso che sono più della metà del senza lavoro, spesso in un'età anagrafica in cui è molto difficile ricollocarsi. A dirlo non sono i sindacati e la commissione europea che il 17 settembre ha inviato una nota a tutte le regioni, Abruzzo compreso, ricordando che la disoccupazione di lungo corso è stata individuata dal Parlamento europeo nell'ambito della strategia Europa 2020 come uno dei principali ostacoli alla crescita. Chiedendo insomma di destinare alla soluzione di questo problema più fondi nell'ambito dei programmi europei e incrementare la formazione e le politiche di reinserimento. Oggi la comunicazione è stata esaminata dalla quarta commissione consigliare della regione. A nostro microfono il presidente Luciano Monticelli. È una risoluzione che portiamo in quanto sulle prossime future tavoli che ci saranno tra il governo centrale e la regione Abruzzo che ha di competenza i servizi per l'impiego. dovranno attuarsi delle politiche giuste, io considero, che guardino con chi ha una lunga percorrenza di fattore non lavorativo. Questo perché genera problematiche all'interno della persona, della famiglia, ha dei costi sociali e sanitari anche alti. Quindi massima attenzione anche sulla programmazione europea, sui fondi che noi siamo destinati con l'FSE e di destinare una quota particolare impegnativa. Va nella stessa direzione la proposta di legge regionale, anch'essa all'esame delle commissioni, che intende sperimentare il reddito minimo garantito da 600 euro circa al mese nei comuni di Bussi, Sul Tirino, Castiglione, Casauria, Letto, Manopello, Manopello e Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. È una richiesta fatta da cinque comuni. La Costituzione italiana riconosce che i comuni possono fare i provvedimenti di legge e chiedere alla regione Abruzzo, in questo caso, del reddito minimo garantito. La proposta di questi cinque comuni qual è? È quello di dare un contributo intorno alle 609 euro al mese, che hanno dei requisiti naturalmente, che non abbiano reddito. Poi ci sono delle varie scaglioni che se dovesse capitare, nel cui c'è un lavoratore che lavora, una famiglia, ci sono degli accorgimenti. Ed ora ci spostiamo a Pescara. Dopo quattro giorni di proteste, i lavoratori interinali di Attiva denunciano l'indifferenza delle istituzioni e avviano una raccolta di firme per ottenere il sostegno della cittadinanza. Nel frattempo è stato chiesto un incontro con i capigruppo e con il prefetto di Pescara. La protesta è iniziata sabato mattina, dopo che non c'è stato l'accordo che tanto si era sperato per i lavoratori interinali di Attiva. Da questa mattina si è dato avvio a una raccolta firme. In realtà sono già state superate le 200 firme e un'altra caratteristica è chi ha firmato. Qui hanno firmato oltre al cittadino di passaggio, sono venuti a firmare politici destra, sinistra, tutti insomma. Possiamo vedere dai nomi che ci sono scritti. Hanno firmato tutti quanti, stanno iniziando a sensibilizzare un po' tutti. O è una facciata, lo fanno per far vedere o veramente credono a noi ma nessuno lo può dire. Ecco, questa è una raccolta firme ma visto che si va ad oltranza con lo sciopero, ricordiamo che voi dormite esattamente qua davanti al comune da diversi giorni. Cosa serve per cercare di mettere fine anche a questo sciopero e soprattutto a questa manifestazione? Perché ovviamente passano i giorni ma ci si attende qualcosa? Sì, il nostro posto di lavoro, quello per cui abbiamo sudato da 8 anni al 31 dicembre. Ma dall'avvio della protesta non avete più avuto notizia da parte delle istituzioni? Alcuni sono venuti ma sono venuti a fare solo il comizio e le fotografie sotto gli strigioni. Per il resto non ci hanno detto niente. Noi abbiamo fatto la richiesta esplicita che i politici di là del marciapiede devono venire solo con fatti concreti alla mano. Da parte loro non c'è stato nessun segnale di avvicinamento nei nostri confronti. Noi siamo andati, a nome della nostra associazione creata lì, dentro quella tenda, abbiamo chiesto l'incontro col prefetto e dovrebbero far sapere tra oggi e domani quando ci accoglierà. Noi siamo ancora molto... ci hanno deluso perché per la Pescara Calcio si sono fatti vedere regione e vari pezzi forti. Per noi niente, perché la Pescara Calcio vuol dire che è più importante di 70 padri di famiglia che stanno a dormire in quella tenda da sabato. L'incontro col prefetto ci sarà venerdì prossimo, vi parteciperanno i lavoratori, una delegazione di lavoratori, ovviamente il neoprefetto Francesco Provolo, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. L'incontro è stato fissato nel pomeriggio dopo che gli stessi lavoratori interinali di Attiva avevano occupato l'aula del Consiglio Comunale dalle 14.30 fino alle 17.30. Poi nel tardo pomeriggio è stato fissato l'incontro con il prefetto venerdì prossimo. Parliamo proprio del neoprefetto di Pescara, Francesco Provolo, che è al lavoro da pochissimi giorni. Oggi lo abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato anche quelle che sono le sue priorità, lavoro, sicurezza e monitoraggio del territorio. Originario di Ottaviano, 62 anni, tre figli, una laurea in giurisprudenza e una carriera avviata nel 1987. Il nuovo prefetto di Pescara è Francesco Provolo e il suo mandato ha preso avvio l'11 gennaio. Conosce bene l'Abruzzo, è stato infatti viceprefetto, vicario all'Aquila. Conosce anche Pescara perché ha già molto chiare le sue priorità, la sicurezza negli edifici, il confronto con sindacati e cittadini e la questione della sicurezza sul territorio. Le statistiche non aiutano alla percezione sulla sicurezza. Si tratta di capire che cosa significa quel dato e affrontare poi la realtà precisa del momento. E' vero, quest'ora e stamattina, la seconda volta dell'incontro da quando sono venuto qui, nel giro di due giorni, dai miei dati so che i furti e tutti i reati sono diminuiti. Una particolare attenzione il nuovo prefetto alla punta sulla sicurezza dei lavoratori. Il motivo si ritrova nella cronaca, quando infatti ricopriva il ruolo di viceprefetto vicario presso la prefettura di Caserta, cinque uomini persero la vita in fabbrica, un fatto che lui stesso ricorda con dolore. Sicurezza sul lavoro, sì, è una cosa che seguirò con molta attenzione anche in provincia di Pescara, perché ritengo che siano un argomento molto importante da affrontare e capire se anche in provincia di Pescara c'è bisogno di un'attività molto più precisa e puntuale. Sentirò i sindacati su questo nei prossimi giorni. Infine la questione della sicurezza percepita. Tra i primissimi incontri istituzionali c'è stato anche quello con il questore di Pescara, Paolo Passamonti. Affronteremo questo problema. Nel minimi particolare, nel prossimo comitato per l'ordine di sicurezza pubblica, vedremo un attimino che cosa è stato fatto, positivo perché i numeri sono scesi, e cosa possiamo fare di più per dare anche una maggiore sicurezza di percezione della sicurezza della collettività. La cosa che l'ha colpita di più della città di Pescara qual è stata? La sua bellezza. Falso allarme bomba stamani al Tribunale di Pescara. Attorno alle 9.30 una telefonata al 113 annunciava che un ordigno sarebbe esploso nel Palazzo di Giustizia tra le 10.30 e le 11.30. Sul posto sono subito intervenuti la squadra volante della Questura, gli artificieri della Polizia di Stato e le unità cinofile anti-esplosivo che hanno effettuato i controlli del caso che hanno avuto esito negativo. Sono in corso accertamenti sulla telefonata anonima a parlare una voce maschile senza apparenti inflessioni dialettali. La chiamata è stata effettuata da una cabina telefonica nel centro di Pescara. Blitz dei carabinieri del NAS di Pescara ieri all'ospedale di Chieti dopo le segnalazioni circa il sovraffollamento nei reparti di clinica medica e di medicina. Nel corso del sopralluogo i militari hanno riscontrato una situazione particolarmente critica con le decine di barelle presenti nei corridoi che hanno generato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'accesso al materiale antincendio e per l'utilizzo delle bombole dell'ossigeno. I militari del NAS hanno poi esteso i controlli a quasi tutto l'ospedale e nel corso della giornata hanno ispezionato decine di reparti. In alcuni casi sono stati trovati dei farmaci scaduti, oltre 30 le confezioni di medicinali sottoposte a sequestro. La lunga e dolorosa vicenda del crack della Banca Tercas è arrivata ad un primo punto fermo. Oggi si è aperto il processo davanti al Tribunale di Roma a giudizio 14 persone, tra le quali l'ex direttore generale Antonio Di Matteo è l'ex presidente Lino Nisi. Al via oggi al Tribunale di Roma la prima udienza per accertare le responsabilità del crack della Banca Tercas in cui centinaia di risparmiatori hanno perso tutto dopo l'azzeramento delle azioni dell'Istituto di Credito. L'imputato principale è l'ex direttore generale Antonio Di Matteo che secondo gli inquirenti sarebbe responsabile della gestione di Senata che ha portato la banca al tracollo finanziario con oltre 600 milioni di perdite. L'altro imputato illustre è l'ex presidente Lino Nisi che, al contrario dell'ex DG, che deve rispondere di diversi reati è accusato soltanto dell'accusa di ostacolo alla vigilanza. Per gli inquirenti, infatti, Nisi non avrebbe avuto una responsabilità diretta nel crack. Secondo la procura romana, avrebbe esposto fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Tercas occultando fatti che avrebbe dovuto comunicare alla Banca d'Italia in particolare circa il tentativo della Tercas di comprare la SMIB, la Banca di San Marino e la situazione patrimoniale della Tercas in vista dell'acquisizione della Caripe. Nel corso dell'udienza preliminare i difensori di Nisi hanno battuto soprattutto su un tasto. L'operazione SMIB era stata gestita da Di Matteo che non ne aveva informato per tempo il presidente. Al GUP di Roma questa spiegazione non è bastata. Vedremo cosa decideranno i giudici nel dibattimento. Oltre a Di Matteo e Nisi, gli altri dodici imputati Cinzia Ciampani, Giampiero Samorì, Francesco Antonio Di Stefano, Raffaele Di Mario, Lucio Giulio Capasso, Paola Ronzio, Pierino Isoldi, Vittorio Casale, Gilberto Sacrati, Cosimo De Rosa, Saverio Signori, Pancrazio Natali devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, appropriazione in debita, ostacolo alle funzioni di vigilanza, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. In particolare avrebbero partecipato all'associazione attuando alcune operazioni di cosiddetto portage, cioè la vendita di azioni proprie della Tercas da parte della stessa banca che si impegna a riacquistarle e beneficiando di cospicui finanziamenti erogati in assenza dei presupposti di affidabilità. Nell'udienza odierna non è escluso che gli avvocati della difesa sollevino eccezioni sulla competenza territoriale già presentata e respinta dal gruppo di Roma, ma che se in questa sede dovessero essere accolte vedrebbero il trasferimento degli atti del processo alla Procura di Teramo e l'inchiesta potrebbe ripartire da zero. Daniela Stati, assessore alla viabilità del Comune di Avezzano ed ex assessore regionale alla protezione civile, è stata rinviata a giudizio dal giudice per riunenze preliminari del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, con l'accusa di corruzione. Il processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Avezzano si celebrerà il 15 dicembre prossimo, dove la Stati comparirà assieme al padre Ezio Stati, Marco Buzzelli, Vincenzo Angeloni e Sabatino Stornelli, anche loro rinviati a giudizio. Gli Stati sono stati accusati dalla Procura della Repubblica di Avezzano di aver ricevuto presunte regalie da Vincenzo Angeloni e Sabatino Stornelli per compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio. Incontro a Roma tra i rappresentanti del Comitato dei Risparmiatori di Banca Etruria di Pizzoli e di Vertici della Consob. I cittadini chiedono il rimborso integrale dei risparmi e delle obbligazioni andati in fumo dopo il decreto salvabanche del Governo. Sensibilizzare il sistema bancario affinché si faccia promotore di atti di rimborso volontari ai risparmiatori da non considerarsi agli utili Stato è la richiesta fatta ieri a Roma dal Comitato dei Risparmiatori di Pizzoli di Banca Etruria. Nel popoloso comune dell'Aquilano, infatti, sono più di mille risparmiatori che per effetto del decreto salvabanche sono rimasti senza soldi. A Roma, il portavoce dei risparmiatori di Pizzoli, Domenico Iannucci, ha incontrato il direttore generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Consob, Angelo Apponi, e il segretario generale Guido Stazzi a margine della piccola protesta alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini truffati. Il sistema bancario per Dianucci deve farsi carico dei rimborsi perché per loro si tratta di piccole cifre, per la gente invece sono i risparmi di una vita. I risparmiatori hanno parlato di truffa anche relativamente alle ultime obbligazioni del 2013 perché hanno detto che se c'erano problemi la banca doveva essere corretta e dunque è mancata anche la comunicazione. Con l'aiuto del cane Sissi, del gruppo cinofilo dell'arma di Chieti, i carabinieri della compagnia di Penne hanno arrestato questa mattina in Via Tavo a Pescara, nel quartiere Rancitelli, madre e figlia trovati in possesso di eroina e cocaina. Arrivati nell'abitazione della donna di 53 anni, pescarese e madre di 12 figli per notificarle l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri nel corso della perquisizione, grazie al fiuto infallibile del cane Sissi, sono riusciti a recuperare un involucro di droga che la figlia della 53enne aveva cercato di gettare nel gabinetto. All'interno c'erano 24 grammi di eroina e 10 di cocaina. Per la giovane di 23 anni è così scattato l'arresto in flagranza di reato. Madre e figlia sono state associate nella sezione femminile della casa circondariale Madonna del Freddo di Chieti. Mauro Mattioli, docente di medicina veterinaria ed ex rettore dell'Università di Teramo e il nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. E' stato siglato ieri mattina all'Aquila il contratto che dà a Mauro Mattioli l'incarico di nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale di Teramo. Mattioli, modenese di 62 anni, è stato rettore dell'Ateneo Teramano dal 2005 al 2009, eletto prorettore nel 99 e nel 2003, preside delle due facoltà di veterinaria e agraria, rispettivamente nel 95 e nel 98. E' un'importante scommessa di valorizzazione di un patrimonio già presente che potrà essere notevolmente potenziato se saremo in grado di tutti assieme trovare dei filoni comuni di interazione e di sinergia. Adesso non resta che cominciare a lavorare e cominciare a parlare di cose serie, negative o positive, criticando e anche urlando, ma parlare di cose serie, cose concrete. Tante erano state le polemiche non ancora del tutto sopite intorno a questa scelta che aveva di fatto rimandato l'ufficialità della nomina di diverse settimane. La nomina, infatti, arriva nonostante la bocciatura ministeriale, all'indomani della nota, tecnicamente unendo procedimento, rimessa dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della Salute, Silvio Borrello, in cui si definisce, priva di requisiti necessari, la designazione dello stesso Mattioli. Polemiche non lo so, di commissariamento non c'è, al momento il commissariamento e l'attività è a questo punto nelle condizioni di poter procedere regolarmente. Per quel che mi riguarda la squadra di governo è completa, la mia disponibilità è la disponibilità di un rettore di università. Il governatore, Luciano D'Alfonso, ha ribadito che il parere ministeriale è consultivo e la prova ne è la nomina firmata ieri mattina. I candidati erano 24, ma solo 4 sono risultati in possesso dei requisiti richiesti a un'apposita commissione nominata dalla Regione Abruzzo, di intesa con quella del Molise. Incontro in Regione a Pescara tra il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, il governatore Luciano D'Alfonso, l'assessore alla valorizzazione dei beni Marinella Sclocco e i rappresentanti dell'ADSU per parlare dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una casa dello studente. Casa dello studente a Chieti, in questo caso il Comune metterà a disposizione due edifici e poi ci servirà qualcuno che lo gestisca, ma si chiede alla Regione di mettere a disposizione dei fondi? Sì, un progetto complesso ma anche molto ben ormai strutturato. Il Comune metterà a disposizione due immobili per oltre 12.000 metri quadrati di disponibilità dove realizzare due case dello studente nel centro storico. La Regione dovrà finanziare la progettazione e l'ADSU avrà il compito, l'azienda di diritto allo studio avrà il compito di presentare una richiesta di finanziamento al Ministero dello Sviluppo e della Ricerca perché ci sia la possibilità di recuperare queste due strutture. Noi siamo molto fiduciosi perché fino ad oggi l'Abruzzo ha perso occasioni nella possibilità di intercettare questi fondi. Quindi questi fondi ci sono, sono fondi regionali, cioè nel senso che sono assegnati alle regioni italiane da parte del MIUR. Noi abbiamo un buon progetto perché integriamo benissimo quella che è la richiesta di recupero di mobili, recuperiamo due mobili comunali, la richiesta di nuova offerta nella Università di Chieti via poca residenza universitaria e soprattutto creiamo un circolo virtuoso tra Università, centro storico, trasporto e ovviamente nuova residenza. Questa operazione è importantissima, sarà cofinanziata dalla Regione con 440 mila euro già messi in bilancio e con il valore proprio dei due immobili perché il Ministero finanzierà il restante 50%. Perché è importante questa operazione? Perché consentirà alla città di Chieti di rivitalizzare il proprio centro storico che oggi non è propriamente vitale e perché consentirà agli studenti che si iscriveranno, che si vorranno iscrivere all'Università di Chieti di poter avere, di poter godere di una casa dello studente rendendo quindi anche più attrattiva la nostra Università d'Annunzio. Comunicare informazioni utili alla popolazione per fronteggiare l'emergenza in caso di calamità naturali è lo scopo del protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo e Università di Teramo. La sicurezza e la vita delle persone in caso di calamità naturali dipende anche da una buona comunicazione, soprattutto preventiva che possa supportare l'attività della protezione civile regionale. E' con questo spirito che all'Aquila il Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso e il Rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico hanno firmato ieri un protocollo di intesa che al centro ha proprio la redazione da parte dell'Ateneo di un piano di comunicazione utile a informare i cittadini su come fronteggiare un'emergenza ma anche per ottimizzare la comunicazione interna e dunque l'operato del sistema di protezione civile. E su questo stiamo lavorando già da molto come Università su impulso della Regione Abruzzo che ha ritenuto di coinvolgere tutti i cittadini in queste situazioni con un'attività di preparazione un'attività di consapevolezza anche dei rischi e poi sottolineerei anche l'aspetto sulla comunicazione interna agli enti preposti ad assicurare la protezione civile e dalla Regione a tutti gli altri enti che intervengono per poter gestire le emergenze con efficacia e salvaguardando al massimo i cittadini. Fare in modo che quando si verifica il fatto eccezionale l'ordinamento pubblico venga trovato preparato. Su questo noi ci prepariamo, ci dedichiamo facendo sì che mai più veniamo colti di sorpresa anche nella parte comunicativa ma non solo nella comunicazione. Noi abbiamo visto per esempio che sul fronte comunicativo la mancanza di adeguatezza ha determinato anche l'intervento del diritto penale giustamente, ha ragione. Noi però dobbiamo anche elevare la capacità di reazione quando si verifica un disastro. Non solo il sistema dell'allerta che è all'altezza oggi noi abbiamo un sistema di organizzazione anche tecnologica che per allertare è quasi alla perfezione. Quando però si verifica il fatto drammatico, distruttivo di un evento straordinario prima non previsto o non prevedibile che succede? Come riusciamo a fronteggiare? Con quale organizzazione graduata? Ecco questo io lo voglio rendere anche oggetto di specifica formazione. A Pizzoli nell'Aquilano esiste un campus universitario ancora da completare che qualcuno vorrebbe destinare a centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Un'ipotesi che però non sembra piacere all'amministrazione comunale. Il comune di Pizzoli dice no al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo negli spazi inizialmente pensati per realizzare un campus universitario mai completato e in attesa di una destinazione definitiva. È una posizione netta quella del sindaco del comune situato a pochi chilometri dall'Aquila Gianni Anastasio che con l'amministrazione sta individuando un percorso per destinare la struttura dove solo due palazzine sono state realizzate. Nell'immediato post-sisma attraverso una catena di solidarietà e l'impegno di un imprenditore che nel sisma del 2009 perse la figlia universitaria iniziarono i lavori per la costruzione del campus. Un progetto da 5 milioni di euro che prevedeva la costruzione di diverse palazzine per 139 piccoli appartamenti per un totale di 262 posti letto da destinare a studenti universitari. Nell'ottobre del 2010 un'inchiesta della procura dell'Aquila bloccò i lavori e anche i 32 studenti che avevano preso possesso degli alloggi furono costretti a cercare una nuova sistemazione. Il processo che ne seguì, che coinvolse amministratori e tecnici imputati per una serie di reati legati a presunti abusi ambientali, edilizzi e violazioni delle norme tecniche, si è concluso a maggio del 2010 con 10 assoluzioni con formula piena. Da quel momento si è tornati a pensare di cosa farne della struttura. I presupposti che portarono all'idea del campus, nato nel post-terremoto con un'emergenza abitativa per gli studenti universitari da tamponare, sembra quasi tramontata. Qualcuno ha lanciato l'ipotesi di un centro per migranti, ma l'idea non sembra essere piaciuta per nulla al sindaco di Pizzoli, dove già sono presenti diversi cittadini stranieri, giunti proprio con progetti per l'accoglienza. Potrebbe anche succedere che magari l'intenzione sia quella di utilizzarla per questi profughi, diciamo, che comunque hanno bisogno di spazi e di ospitalità. Per quanto ci riguarda, io ho già detto in altre situazioni, lo ribadisco, Pizzoli è saturo perché noi abbiamo già qui più di una situazione che comunque si è venuta a creare negli ultimi mesi e che unita a tutti gli stranieri che comunque Pizzoli già ospitava, ormai superiamo abbondantemente il 10% della popolazione, quindi non siamo più in grado di poter tenere sotto controllo, anche per una questione di ordine pubblico, queste cose. Ed ora la pagina sportiva che apriamo con la Serie B e con il Pescara che continua a lavorare in vista della ripresa del campionato per la prima giornata di ritorno. Sabato alle 15 all'Adriatico Cornacchia arriva il Livorno. Oggi seduta pomeridiana per i biancazzurri di Massimo Oddo, lavoro differenziato per l'attaccante Sansovini e per il centrocampista Bulevardi, lavoro invece nella norma per tutti gli altri. Sul fronte mercato continua la caccia ad un difensore dopo la frenata per Domizzi dell'Udinese, il nome nuovo, il nome più caldo, quello delle ultime ore, è quello di Nicolas Spolli, l'argentino ex Catania in uscita dal Carpi, ma non è l'unico nome su cui c'è interesse dei dirigenti biancazzurri. Vediamo. Dopo aver definito l'arrivo di Daniele Verde, il Pescara sul mercato è alla ricerca di un paio di difensori. Il primo profilo corrisponde a Maurizio Domizzi dell'Udinese. Il trasferimento del giocatore in Abruzzo si è però complicato nelle ultime ore, anche perché da una parte il giocatore non ancora raggiunge l'accordo con la società friulana e dall'altra i dirigenti biancazzurri vogliono ponderare bene la scelta, considerando l'esborso economico e anche l'età non più giovanissima del giocatore. Per questo il Pescara volge lo sguardo anche altrove. Nei giorni scorsi sarebbe stato sondato il terreno per il trentenne Andrea Coda della Sampdoria e per il ventitrenne islandese del Cesena, ma di proprietà della Juventus, Magnusson. Infine, i dirigenti pescaresi hanno bussato anche alla porta dell'Atalanta per Cherubin. Sul fronte cessioni si registra un interessamento della Sarenitana per Andrea Cocco. Diverse le richieste per il sindaco Marco Sansovini. L'ultima, in ordine di tempo, è quella della SPAL, capolista del girone B di Lega Pro. Intanto la squadra prepara la gara con il Livorno. Contro i Toscani mancherà lo squalificato Memushai. A centrocampo le scelte comunque non mancano. Già in vendita da due giorni i biglietti della gara dell'Adriatico. E ora parliamo di Virtus Lanciano dopo la partenza di Crecco che già nei giorni scorsi aveva lasciato la Virtus per accasarsi al Modena. È ufficiale anche la cessione in prestito con diritto di riscatto di Elio De Silvestro al Pavia. Dunque scende di categoria all'attaccante esterno reinventato anche difensore di fascia. Quest'anno la D'Aversa nella gara contro la Saernitana. Elio De Silvestro al Pavia in prestito con diritto di riscatto. Ma facciamo il punto in questo servizio. In casa Lanciano si lavora a fare i spenti sul mercato. Dopo l'arrivo del giovane difensore classe 1999 dal Pescara, Samuele Di Matteo, che però difficilmente potrà essere un valido rinforzo per D'Aversa, il direttore sportivo frentano Luca Leone lavora all'arrivo di un portiere. Si tratta di Alessio Cragno, attualmente vice di Storari al Cagliari. Ieri Leone ha incontrato a Cesena l'agente dell'estremo difensore Graziano Battistini per confermargli l'interesse della società rossonera per il suo assistito. Il giocatore ha dato il suo assenso e questo potrebbe essere un primo passo importante, anche perché la società isolana ha capito che tenere in panchina il nazionale Under 21 sarebbe controproducente. Più utile farlo giocare come potrebbe accadere a Lanciano, dove uno fra casadea e aridità però diventerebbe di troppo. Già la scorsa estate Cragno era stato ad un passo dal Lanciano prima che il Cagliari decidesse di tenerlo in rosa come dodicesimo. Ma sul mercato la società rossonera potrebbe incontrare difficoltà a trovare giocatori disponibili a trasferirsi in Frentania, considerando la difficile situazione di classifica e soprattutto le tante partenze che ad oggi hanno indebolito la rosa. Intanto, mentre le cessioni di Mammarella e Marilungo sono state congelate, De Silvestro è vicino al passaggio al Pavia e sabato si torna in campo con la prima giornata di ritorno che vedrà al Biondi di fronte Lanciano e Provercelli. I tentativi di portare il portiere Alessio Cragno a Lanciano potrebbero essere dei piani complicati dal fatto che nella seduta del pomeriggio si è infortunato il portiere titolare del Cagliari Marco Storari. Quindi, insomma, è un infortunio da valutare se dovessero esserci tempi medi o medio-lunghi di recupero. Chiaramente sarebbe molto più difficile per la Virtus Lanciano portare Alessio Cragno in Frentania. Ora parliamo di Lega Pro. Intanto sul fronte dell'inchiesta Dirti Soccer si è chiuso il lungo dibattimento. Il Presidente del Tribunale federale nazionale si è chiuso in Camera di Consiglio. Si aspettano i verdetti che interessano in particolare l'Aquila Calcio, per cui è stata fatta questa richiesta di cui tanto si è discusso di 31 punti di penalizzazione, poi anche 6 anni di inibizione proposti per l'ex dirigente Ercole Di Nicola, ma insomma la sentenza arriverà la prossima settimana. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, proprio oggi è stato ufficializzato l'acquisto da parte dell'Aquila, del portiere Francesco Scotti, che ha firmato il contratto con il Sodalizio Rosso Blu e dunque è effettivamente, ufficialmente, un giocatore dell'Aquila. Ma la notizia era ormai abbastanza datata, doveva trovare soltanto l'ufficialità. Per quanto riguarda il Teramo, invece, ieri l'ufficializzazione dell'acquisizione dell'attaccante Francesco Forte, che è stato presentato in conferenza stampa questo pomeriggio dopo che ha sostenuto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni di squadra a presentare il nuovo attaccante. C'erano anche il presidente Campitelli, il direttore Scacchioli. Ascoltiamo le parole del neogiocatore Teramano. Come la società che ha bisogno, come diceva il presidente, ha bisogno di riaccendere la miccia della bomba che può esplodere da un momento all'altro perché siamo tutti quanti, sia io che la piazza, la squadra e il mister, una bomba pronta a esplodere perché abbiamo tutti quanti voglia di riscatto. Francesco Forte dalla Cremonesi a Teramo, passando solo per un attimo per l'Inter, con la speranza via Teramo magari di tornarci. Sicuramente, io non nascondo di essere ambizioso, è ovviamente un sogno, però penso che con il lavoro, con l'impegno, soprattutto nei momenti difficili non mollare mai, cercare sempre di dare qualcosa in più perché nei momenti difficili bisogna dare qualcosa in più che manca evidentemente perché altrimenti ci sarebbe stato un momento difficile, quindi bisogna reagire. Io sono pronto a mettermi in gioco e a far vedere quanta voglia ho io di dimostrare il mio valore. Il presidente Campitelli ha detto Forte è sempre stato il nostro primo obiettivo, per i gol che sono mancati fino ad adesso al Teramo questo pesa o dà più stimoli? Io penso che, come ha detto il presidente, l'attaccante comunque deve subire certe pressioni e soprattutto deve prendersi le proprie responsabilità. Ovviamente io sono qui a disposizione della squadra e del mister e quando verrò chiamato in casa darò il mio contributo e ovviamente il mio mestiere è fare gol, quindi bisogna buttarla dentro. Sabato L'Ancona potevi essere dall'altra parte, alla fine l'ha spuntata il Teramo, sarà una partita, si riparte col girone di ritorno, hai detto sono qui per disputare 17 finali. Sì, assolutamente, sono 17 battaglie perché purtroppo con la penalizzazione la posizione è quella che è, quindi sappiamo che i ragazzi li ho visti molto carichi, quindi sono molto contento di aver trovato questo gruppo e ovviamente la partita con l'Ancona è una tappa fondamentale perché come ho detto tutte le partite qui alla fine saranno fondamentali, ma perché abbiamo secondo me le capacità di vincerle tutte quante. Il TG6 termina qui, ma vi ricordo l'appuntamento intanto tra poco con il TG6 e l'Aquila alle 19.45 e poi questa sera alle ore 21. Non perdete Virtus Style, torna per il primo numero del 2016, il nostro settimanale dedicato alle vicende della Virtus Lanciano. La conduzione ovviamente di Alessio Gian Cristoforo, grazie per l'attenzione e buona serata. 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 Grazie per l'attenzione e buona serata.